Buongiorno a tutti i legionari e a barbara ziononi iscritti, io sono l'SPCM e vi do il bentornato su Geopolitical Simulator 4 edizione 2022 con l'Italia guidata da me. Siamo al secondo episodio di questa nuova campagna che tra l'altro adesso lo noterete dalla copertina, ho rinominato un nuovo inizio, non più una nuova visione così è più distinguibile ad occhio il fatto che abbiamo reiniziato e non stiamo più giocando la precedente campagna che al momento non è più disponibile sul canale per quanto non ho ancora eliminato i video ma li ho solamente messi in privato. Allora siamo al 24 gennaio e dobbiamo fare un bel po' di cose, in questo video nello specifico 3 ci andremo ad occupare 1 di tasse, nel senso finiamo di far passare queste tasse che abbiamo fatto nello scorso episodio augurandoci naturalmente che passino tutte, salario del primo ministro ci dicono di abbassarlo ok, incoraggiamento per le olimpiadi invernali ok, nuovo COP di quest'anno, l'energia fossile rappresenta più del 50% della tua produzione, alla fine dell'anno avremo una conferenza, Sharm el Sheikh ok, si aspettano che rispettiamo le nostre promesse di emissioni di CO2 e che faremo il necessario nell'anno per rispettarle, se riusciamo a superarle, il tuo paese di conseguenza tu, godremo di una risposta positiva da parte dell'opinione pubblica, va bene va bene, fatemi controllare un secondo quante leggi mancano, wow, ne dobbiamo votare davvero tante che saranno votate tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, quindi andiamo un pelo più rapidamente in modo da farle passare tutte. Poi per l'appunto in questo episodio ho detto che ci occuperemo di ricerca, ma non solo, ci occuperemo di ricerche e di energia, lo so è una cosa che abbiamo già fatto, ma penso che sia importante farlo. Allora, per quanto riguarda i laboratori di ricerca sapete che io non ce la posso fare, vi giuro è più forte di me, io vedo questa cifra non tonda e impazzisco, impazzisco, è davvero una cosa allucinante. Quindi costruiamo altri 18 laboratori di ricerca, ok, legge per la tassa sulle aziende è passata, legge per la tassa sulle transazioni finanziarie è passata, social media e interferenza straniera, vorrei portare la tua attenzione sul servizio di sorveglianza dei social media, sì, lo faremo ma non in seguito, deficit meno 8,73, buone, è passata la legge sulla carbon tax, ok, c'è tra l'altro un sit-in del partito liberale conservatore contro la politica d'assistenzialismo del governo. Ho messo solo tasse, caro amici miei, che assistenzialismo c'è se ho messo tasse? non è assistenzialismo, voglio dire, protestate perché ho alzato le tasse piuttosto. E manifestazione antipadronale, bla bla bla, ok, sì, 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 tranquillo. Vabbè, protestate se ci tenete, un vero amico del nostro pianeta, aumento delle spese delle aziende, ok, tasse delle aziende a tutta dritta, ovviamente se c'è un desiderio in accordo con la segreteria generale del partito, devo ricordarle che l'obiettivo di un'organizzazione politica come la nostra dovrebbe essere di alleviare il più possibile le spese delle aziende, sì, vabbè, le va alzate di pochissimo. Tassa sui grandi patrimoni è passata, ok, andiamo a chiudere un attimo tutte queste robe qua, d'accordo, facciamo riandare il tempo abbastanza piano, ambizioni per le olimpiadi invernali di Beijing, ok, continuiamo qua. Per quanto riguarda i centri multidisciplinari di ricerca, posso costruirne 15, mi costa 2 miliardi, ma penso che ne valga assolutamente la pena e quindi lo andiamo a fare. Ok, invece per quanto riguarda il numero di dipendenti, stavolta non sono così matto da non utilizzare la calcolatrice e quindi lo farò, abbiamo 2650 per 30, 2650 per 30 più, state calmi, state calmi, quante notizie, quante notizie, siamo al 74% di popolarità, allora, 2650 per 30 più 30 per 2000, 30 per 2000, che vuol dire che abbiamo posto per 139.500 ricercatori. Tra l'altro, recentemente ho fatto una piccola ricerca personale sul numero di ricercatori in Italia e in realtà un mio amico mi ha evidenziato come probabilmente si tratta solo dei ricercatori e non tiene doc o dei postdoc, conto scusate, dei postdoc, dei dottorandi, eccetera, eccetera, però in Italia dovrebbero essere più o meno 190.000, quindi una buona cifra, ma vi assicuro che non prendono 2.090 di salario mensile, mi spiace per loro, ma non è così nella realtà. Costruzione, ok, stanno in corso, mi sono già dimenticato il numero, ma potrò essere così svampito? 139.500 dipendenti, ok, andiamo ad aumentare di un bel po', 139.500, aumento di un miliardo dei costi, ma noi siamo molto portati verso la ricerca, richiesta di incontro da parte del capo di stato, del primo ministro della Palestina, che direi dall'uniforme che è un governo militare, vabbè, incontriamolo subito, ok, emozione materna, come si chiama? Lucia di Roberto, mammina sei invecchiata un po' madre, mia mamma non dovrà mai sentire questa frase, ok, poi nazionalizzazione, cosa ho nazionalizzato? Ah, sì, 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 il settore del gioco d'azzardo, in realtà l'ho privatizzato parzialmente, legge sull'uso di imballaggi di plastica è passata, ok, agenzie di rating potete fare di meglio, ok, grazie per questa informazione così gustosa. Allora, per quanto riguarda i fondi, io vorrei per il momento abbassare di un pelo la ricerca militare, è importante la difesa, molto importante, però vorrei concentrarmi anche su altro, quindi agroalimentare, magari andiamo a mettere un po' di fondi, medicine genetiche, energie e ambiente, assolutamente qua vorrei aumentare di tantissimi fondi, è qua che li voglio andare a mettere, riesco a portare a 9 stelle senza spendere troppo? Costo di bilancio 590 milioni, se tolgo l'agroalimentare qui? Siamo in positivo, siamo in negativo? No, c'è un costo di bilancio, vabbè, lo facciamo comunque, ci vogliamo concentrare per l'appunto sull'energia, ecco qua il presidente della Palestina, vuole venderci dell'industria chimica, consumo nazionale, in realtà siamo quasi in pari, quindi no, scusa ma ti offro un bicchiere di champagne che accetti volentieri e ti rimando a casa, ma non sono interessato a un acquisto di questo tipo, per ora perlomeno, facciamo passare le ultime tasse, rivolta a Roma, per cosa? Vabbè, adesso lo scopriamo, popolarità benefica, benissimo, vediamo di occuparci subito di questo, partito liberale conservatore, sta guidando la protesta, tra l'altro sono al palazzo del capo di stato, che tra l'altro vuol dire che stanno andando da Mattarella, non stanno andando da me, io sono il capo di governo in questa simulazione geopolitica, quindi geopolitica è un po' confuso su queste definizioni purtroppo. Ok, disordini, 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 va bene, abbiamo mandato i rinforzi, è come al solito un macello, festival del film di Venezia, vogliamo partecipare, sì, si ti incontro la politica e l'assistenzialismo, vuole inviare l'esercito? No, si ti incontro la politica e l'assistenzialismo, i manifestanti sono ancora là, e bravi, congratulazioni, voglio dire, potremmo fare un intervento televisivo volendo, ma sì, facciamolo, facciamolo. Tra l'altro abbiamo già fissato un incontro con un altro artista o qualcuno che parlasse bene di noi, più che altro, quando è stato l'ultimo? Devo fissarli ogni top, così da avere sempre qualcuno che parla bene di noi, ne abbiamo già parlato di questo, eccolo qua, associazione, ok, con gli ambientalisti abbiamo parlato il 24 gennaio, potremmo organizzare un incontro con qualcuno magari per inizio marzo, che dite? Ma sì, dai, facciamo, organizziamo un incontro con qualcuno per inizio marzo, no, questi qua della donna, uno suoi, terza età, straniero, razzismo, cacciatori, AIDS, no, sanità non ho ancora fatto niente, consumatori non so se sono tanto contenti in questo momento, terza età ben meno, allora vediamo magari con un sindacato, che sindacato? Qualità sanità sono abbastanza contenti, c'è da dire, abbiamo insegnanti, non c'è quello dei ricercatori, a cui ho appena dato un casino di fondi, quindi qua abbiamo gli studenti, qua abbiamo la funzione pubblica, quindi sono forze di amministrazione, forze di amministrazione, dipendenti pubblici, corrieri, arti e media, questo è un sindacato normalissimo, vabbè, ok, vediamo di fare un incontro con questi qua della sanità e lo facciamo, come abbiamo detto, a marzo, perfetto, ah tra l'altro una cosa divertente che ho scoperto curiosando, se andiamo sul nostro partito, facciamo parte nel Parlamento Europeo del gruppo ecologista? Non so, l'ho trovata estremamente curiosa come cosa, abbiamo fatto un intervento, contro il sit-in, perfetto, sono passate le ultime leggi che dobbiamo passare? non ancora, sale e grassi alimentari, industria pornografica, scommesse e tabacco, vabbè nulla, nulla di straordinario voglio dire, la rivolta a Roma, ah ma verranno votate entro il 10, una buona annata per l'Europa, qua ci danno, ci dicono le solite cose per quanto riguarda quello che possiamo fare all'interno dell'Unione Europea, ma in questo caso non guardiamo, il numero di manifestanti qua sta andando a diminuire, ok, questo va bene. Vediamo se riusciamo a far andare il tempo un pelo più rapidamente, anche se in realtà la velocità aumentata non è che ha grandi risultati, ok, è passata la tasta sul tabacco, è passata anche questa, vabbè questa protesta, ah direi che a Monaco, eh sì ok ok, ah tra l'altro ragazzi ho portato la qualità video di Geopolitical a media per fare in modo che vada un po', ancora un po' più sciolto, sinceramente, non voglio rischiare un'altra volta che succeda qualcosa, il paese sta aspettando, liberazione dei manifestanti, sessioni europee, ok, legge per la tassa sulle scommesse è passata, membri di un'organizzazione terroristica minacciano dei turisti a Roma, ma malissimo, malissimo, beh, ci siamo? Ah, manca solo questa, ok, è passata anche questa, sono passate tutte, fatemi controllare, yes, 10% di popolarità per questa legge? Beh, grazie, va bene, va bene, va bene, va bene, ok, ora ci possiamo occupare un attimo di energia e andremo come avevo già detto nella campagna che abbiamo annullato a costruire un bel po' di centrali solari e prima o poi andremo a fare il nucleare ma lo andremo a fare solamente una volta che avremo, mamma mia, la qualità grafica è diminuita, si vede, lo andremo a fare solo una volta che avremo la tecnologia per le centrali 3G che sono più produttive, naturalmente, e questa è una cosa che vi ho già detto varie volte, è limitante il gioco in termini di energia, la gestione naturalmente non è così semplice, semplice e c'è anche da considerare il fatto che, sì, ok, il MEF, il Ministero d'Economia e Finanza controlla una quota dell'Enel e anche dell'Eni, mi sembra, ma sì, sì, penso anche dell'Eni, però in realtà è tutto molto più in mani privati, naturalmente il gioco per farti divertire, per farti essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, citando Gandhi, ti dà più possibilità di agire all'interno di Geopolitical ed è giusto così, perché se no sarebbe una rottura rivale, nel senso, alla fine Geopolitical Simulator 4, questo fanno bene a dirlo, è prima di tutto un gioco e quindi devi intrattenere e divertire, mi fa una tristezza ragazzi, tra l'altro vedere la grafica in media, ma davvero fortissima, fortissima, sono troppo dispiaciuto, sono troppo dispiaciuto, cioè guardate qua, guardate qua, sembra una Waystand, stiamo giocando a Fallout, allucinante, è allucinante, ok, tra l'altro nel Lazio c'era già la stazione, sì la stazione, la centrale di pannelli fotovoltaici, possiamo farne una in Sardegna per caso? No, ok, qua sì, tra l'altro non vorrei una cazzata, ma ok, Marche e giustamente Umbria, chissà se in Umbria ha senso, se la produzione è comunque così alta, sì, lo è, va bene, ma allora riempiamo di solare, e perché il solare, lo dico un'altra volta, perché è la più efficiente in termini di costo e produzione di elettricità, perlomeno su Geopolitica Simuletro, quindi tra l'altro guardate qua, la produzione è buona ovunque, a parte in Sardegna e Sicilia, per qualche ragione a me ignota, in Emilia Romagna per caso ce n'è già una o no? Wow, cioè è buona anche qua, ragazzi, ovunque, è emana dal cielo, è emana dal cielo, considerando poi che già solo con due ne produciamo 25, pensate voi con 11. Liguria? Lombardia? Sai che il territorio qua non è idoneo, facciamo che vado a chiudere un attimo e a rifarlo, ups, allora toglimi questo, perfetto, ritorniamo su Energia, ritorniamo su Solare, no ok, giustamente Liguria e Media, Piemonte? Lombardia? Lombardia? In Veneto? Fantastico, questa cos'è? Nulla, è un lago. Ok, vediamo invece in Friuli Venezia Giulia, comunque se stiamo alle stime che vediamo qua, probabilmente andremo a produrre altri 125 terawatt, con tutte queste nuove centrali che ho fatto e voglio dire, voglio dire, mica male. E anche in Friuli, signori, va bene, allora, poi perché io sono un matto e non resisto alle cifre non togne, facciamo anche altre 4 a biomassa, why not? Geotermica, uno di voi mi ha detto che spesso fa molto affidamento sulla geotermica per la produzione energetica, avrebbe senso andare a fare le centrali direttamente nelle zone in cui la produzione è migliore, lo vediamo da queste stelle. Però, considerando che se io costruissi, per esempio, le centrali solo nel Lazio, una volta fatta la costruzione non potrei più ricevere i cofinanziamenti dell'UEL, le distribuisco sull'intero territorio a scapito magari in una produzione migliore. Allora, farne altre 5, quanto mi costa? Mi costa 350 milioni, se ne facciamo 15, allora not bad. Va bene. Idroelettrica, qua magari riusciamo a farne 9? Sì, perfetto. E anche in questo caso vale lo stesso discorso. O ne facciamo 19? No, facciamone 9 che abbiamo già speso tantissimo per l'energia. Adesso fra un po' si aggiorneranno i dati. Comunque ragazzi, se è andato abbastanza stabile questo video in termini tanto di audio quanto naturalmente di fluidità del video, potrei pensare di rimettere ad alto, se non altro perché davvero avvicinarsi è traumatico alla mappa. Cioè dovrei rimanere così, per non essere deluso. Miglioramento dello statuto del Molise. Qua abbiamo visto come in realtà, in realtà, se andiamo sulla mappa che hanno messo, che si trova nelle mappe comparative del sviluppo regionale, è un po' bagata. Ma proprio un pelo. C'è il massimo sviluppo regionale, ce lo dà in Veneto e in Friuli, Venezia e Giulia, e dà sullo stesso livello tutte le altre regioni, che è davvero strano. È davvero strano, se ormai c'è qualcosa che non... Cioè assolutamente c'è qualcosa che non va in questa mappa, per forza. Chiaramente non è a posto. Ok, vediamo di far passare un attimo queste manovre. Tra l'altro abbiamo ancora 8 minuti per questo video e... Wow! Possiamo fare ancora tanta tanta roba, quindi. Ah sì, già che ci siamo. Una cosa che potremmo anche fare... Vabbè, ma facciamolo una volta che abbiamo visto la reazione a... a quello che abbiamo appena fatto. Alla reazione è questa. Meno 0,66 per le finanze pubbliche. Ha senso, in realtà. Assassino di Aurelio Gianaroli. Ok, allora facciamo che... Faccio andare il tempo. E nel frattempo, sì, lo so, è brutto dirlo così, però... Non mi veniva nulla di meglio. Andiamo ad aumentare un pelo. I nostri analisti informatici e agenti sul territorio nazionale. I fondi per il momento li lasciamo così. Andiamo a infiltrarci nelle varie organizzazioni del terrore presenti. Ok. E magari facciamo anche mettere sotto sorveglianza tutta questa gente qua. Ok. E poi, già che ci siamo, per la sicurezza informatica facciamo una campagna di sensibilizzazione. Cominciamo con la protezione bronzo. E andiamo anche a gestire un secondo le nostre reti. Andiamo a controllarle per il numero di agenti. La vogliamo quelle in Iran, sì. La vogliamo quelle in Israele, sì. Regno Unito, sì. Russia, sì. Facciamo che prima mi occupo allora magari di quelle che non ci interessano. Tipo Brasile. Possiamo anche lasciare stare. Ok. Taiwan. Oddio, magari industriale può anche avere il suo perché, eh. Pakistan. Lasciamo stare. Egitto. Per ora lasciamo stare. Voglio farlo abbastanza concentrato. Arabia Saudita, lasciamo stare. Corea del Nord, lasciamo stare. Confermiamo un secondo perché ho un po' di notifiche. E vorrei controllare. Cosa succede? La Cina ha appena scoperto la pila combustibile ad alta potenza. Bravi. Bravi voi. Fabio Feni messo sotto sorveglianza. Sicurezza informatica avviata. Campagna di sensibilizzazione avviata. Ok, ora torniamo ai servizi segreti. Gestisci i reti. Numero di agenti. Regno Unito perché me ne hai messi a caso 26. Taiwan mettiamo le 25. Russia 25. India 25. Vietnam no, grazie. Cina li portiamo a 25. Thailandia e i biratti arabi no, grazie. Sì, faccio prima effettivamente a fare così. Ok. E ok. Ne abbiamo disponibili 75. Quindi io metterei il massimo focus in Cina. Potremmo fare anche una rete negli Stati Uniti. Iran. Allora. E poi generalmente io vorrei il non, scusate non il sabotaggio. Vorrei lo spionaggio industriale. Più o meno ovunque. Per ora. Ok. Perché non me l'hai messo qua? Scusate fammi confermare un secondo. Abbiamo ancora questi 75 agenti disponibili. Spionaggio industriale. Però il tempo vorrei che andasse nel mentre. Grazie. Molto gentile. Molto gentile. Spionaggio industriale. Spionaggio industriale. Spionaggio industriale. E spionaggio industriale. Ok. Perfetto. Andiamo quindi a portare il numero di agenti qua a 50. Lo andiamo a portare a 50 anche qua. E andiamo a creare una rete negli Stati Uniti. Anche in quel caso lo faccio per lo spionaggio industriale. Non per chissà che cosa ragazzi. Me li chiami uso? Stati Uniti. Stati Uniti. 25. 25. Torniamo su. Spionaggio industriale. E alla via così. E ci siamo occupati anche di questo. Il deficit è almeno 9,16. È ancora gestibile. Abbiamo ottenuto un po' di informazioni. Andiamo a controllarle subito. Terroristi. Eccoci qua. Ha aiutato una vecchietta da attraversare la strada. Bravo Fabio. Ha rifatto la carta. Belle informazioni. Ha ordinato prodotti esplosivi. Che sorriso creepy. Vittoria sportiva. Non abbiamo comunque abbastanza motivi per imprigionare questi. Mettiamo sotto sorveglianza anche lui. Ok. Cosa succede? Olimpiadi di Beijing. Buona performance. Festival del film di Venezia. Un successo esemplare. La Russia dichiara guerra all'Ucraina. Doveva succedere. Ed è successo. Tra l'altro noto che abbiamo ottime reazioni all'interno di tutta l'Europa. Ok. Adesso abbiamo la possibilità di mettere le sanzioni. E nella mini campagna eliminata. Una nuova visione l'avevo fatto. Alcuni di voi. Anzi uno di voi mi ha detto che in realtà anche nel gioco mettere le inflazioni porta a un grosso aumento del deficit. Io non avevo visto quell'aumento ma probabilmente per il fatto che giustamente avevo già i miei problemi per il debito. Che se ben vi ricordate dopo aver chiesto quel prestito alla BCE il rimborso del debito c'era passato da 103 miliardi a ben 200. E la cosa decisamente ci aveva distrutto. L'economia come siamo messi col tasso di crescita? 4,92. Abbiamo bisogno di qualche contratto. Lo andremo a fare ma probabilmente nel prossimo video. Paese a rischio. Possibili strategie nel conflitto ucraino. Ok. L'Ucraina richiede la guerra eccetera eccetera eccetera. Va bene. E qua un'altra volta vado a dire ragazzi che non andremo ad approfondire troppo l'argomento. Perché è un argomento troppo serio per parlare in un videogioco perlomeno con abbastanza precisione, abbastanza serietà e via così. Ci sono un bel po' di notizie tra l'altro. Ok. Noi siamo all'81% di popolarità. E sapete che sono tentato di fare questo? Dai facciamolo. Sondaggio base sulle intenzioni di voto. E una cosa che volevo anche guardare. Quali ministeri abbiamo all'interno del gabinetto? Abbiamo economia, giustizia, educazione, ambiente, trasporti e ricerca. Ok. E su due di questi ministeri ci abbiamo lavorato un bel po'. Ambiente e ricerca proprio in questo episodio. Quindi non male. Decisamente non male. Operare nell'UE. Ok. Sondaggio sulle intenzioni di voto terminato rapidissimi. E' anche vero che se seguite un minimo... Sì, beh, sarete tutti voi su Instagram, TikTok o Facebook e continuano a pubblicare i partiti politici questi sondaggi come se una variazione da un giorno all'altro fosse chissà quale grande cambiamento. Ok, al momento siamo il partito che otterrebbe la maggioranza relativa dei voti. E bravi noi, e bravi noi. Ottimo, ottimo. Causa di morte, tra l'altro, dato che abbiamo fatto tante belle cose, potremmo anche fare una cosa. Andiamo sul capo dello Stato, mediatizziamo uno spostamento a un laboratorio di ricerca, facciamolo nel sud, in Sicilia. E lo facciamo oggi. E magari fra un po' faremo un nuovo spostamento, abbiamo lavorato sulla ricerca, parco industriale, fattoria, centrale nucleare, ma non ce l'abbiamo. Amico mio. Università. Sono tentatissimo di fare una cosa, sì, poi lo farò. In un successivo video, ragazzi, mediatizzeremo un nostro spostamento. E lo farò il giorno stesso del concerto dei Sabaton di quest'anno, del 2022, che io effettivamente andrò a vedere. Senza telecamere che mi seguono, fortunatamente, però. Un po' di felicità. Ok, il nostro popolo sembra piuttosto felice. Bene. Assassini. La mafia italiana è stata identificata come colpevole. Controllo della guerra. Ok, non abbiamo nessun dato dettagliato. Possiamo invitare i nostri satelliti militari sopra il teatro di guerra a osservare i movimenti delle truppe in modo dettagliato. Per ora no. L'arte della diplomazia. Ok, qua ci dice le nuove possibilità che abbiamo all'interno dell'edizione 2022, ma anche delle precedenti, più recenti, di nuove opzioni che possiamo fare. Ma per ora non ci interessano. Io direi che per adesso ci possiamo fermare. Come al solito mi auguro che l'episodio vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando supportate la campagna con un mi piace e una condivisione e non perdetevi il successivo episodio. Nell'attesa mi raccomando date anche un'occhiata alle altre campagne in corso sul canale o a quelle già concluse. Io adesso vi saluto, a via tutti e ci vediamo nel prossimo episodio. A presto. Grazie.